Con questa particolare novena ricordiamo i giorni di attesa per la purificazione di Maria Santissima e la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Si tratta di una preghiera molto breve che concede l'indulgenza plenaria sedetta ogni giorno per un mese intero. Se invece viene pregata come una novena viene concessa l'indulgenza per 300 giorni. Con questa preghiera chiediamo la purificazione del cuore, della nostra anima secondo la volontà della Santissima Trinità con l'intercessione di Maria e Giuseppe per ottenere tutte le grazie che il Signore vorrà donarci. La preghiera deve essere pronunciata con le labbra al fine di ottenere l'indulgenza. Preghiamo insieme invocando lo Spirito Santo di Dio. Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Oh luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. O santa madre di dio, che sei salita al tempio secondo la legge, offrendo piccole colombe bianche, prega per me, affinché anch'io possa osservare la legge ed essere pura di cuore come te. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza dell'anima mia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Il Signore vi custodisca nel suo amore, tocchi il vostro cuore e vi doni la pace. Vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore.